schifezza che è venuta in camera di mia madre Diofanto raga è enorme ma è enorme sono 6 centimetri di ragno te lo giuro siamo vicinissimi ed è una roba no ve lo giuro siamo lontani è così io vi giuro che è bruttissimo no eh io vorrei dirvi siamo a ma neanche 40 centimetri dal ragno ed è una roba gigante ma è gigante oddio già vedere qua con quella ho molto più paura oddio vado a chiamare papà prendo un fucile papi prendo la mannaia chiamala di e infatti prestare l'anti i ragni qua c'è un ragno che fa troppa paura eh capire oddio ce la caperemo con questo questo video lo carico su youtube ce la caperemo con questo no il coltello marco ci sei là ci segnalano oh notare sta schifezza che schifo che schifo mamma mia è meglio che termino il video perché altrimenti mi salta addosso